Credo che ci sia una grande fragilità genitoriale in questo momento, che si abbiano pochi riferimenti e molta necessità di essere sostenuti. Famiglia intesa nel più ampio senso possibile, anche famiglie monogenitoriali chiaramente, famiglie composte da due donne, da due uomini, da due persone che decidono di vivere insieme in nome di un legame profondo che avvia chiaramente un discorso di condivisione. La funzione genitoriale nelle nuove famiglie tra cambiamento e stabilità. Questa mattina nella Sala dei Baroni del Maschio Angioino se ne è parlato in un convegno organizzato dal Comune di Napoli insieme con l'Istituto Italiano di Psicoterapia Relazionale, con il patrocino del Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi e dell'Ordine degli Psicologi della Campania. Si affrontano temi come i nuclei monoparentali, i matrimoni misti, le famiglie unipersonali, allargate o ricostituite, con almeno uno dei componenti della coppia che ha avuto figli da una precedente unione. E sono solo alcune delle possibilità oggi frequenti da trovare nei modelli delle famiglie profondamente mutati rispetto a quelli tradizionali, che influiscono sul ruolo e sulla responsabilità del genitore. Riuscire a lavorare anche sui conflitti per fare in modo che quei conflitti non diventino poi un terreno di dolore e di sofferenza, non soltanto per quella coppia, ma soprattutto per i loro figli. Quindi c'è effettivamente la necessità di rivedere, di riposizionarsi rispetto anche ai propri figli e alla coppia. Noi siamo molto attenti ai rapporti umani, alle relazioni sentimentali, all'evoluzione del diritto e anche della società. Infatti siamo stati tra i primi a realizzare il registro delle unioni civili, a consentire la trascrizione dei matrimoni di persone dello stesso sesso contratte all'estero, il riconoscimento della carta d'identità Ruben nato da due donne a Barcellona e così anche quello di spingere sempre di più anche nella lotta politica, nel dibattito politico perché si possa affrontare anche il tema delle nuove genitorialità, le adozioni tra persone dello stesso sesso. Insomma il legame forte è l'amore, il sentimento, la forma ha un suo valore, ma le forme cambiano anche con l'evoluzione della società e dei cambiamenti che ci sono nella storia.